Love is in the air, puntate martedì 5 ottobre 2021. Jeren lascia Ferit e gli dice che lo sta facendo perché non gli è piaciuto il suo atteggiamento nei confronti di Selene, tornata da poco. In realtà le motivazioni della ragazza sono ben diverse dal momento che intende conquistare Denis, del quale è sempre stata segretamente innamorata. Ferit si accorge del suo strano comportamento e non sa come reagire. Intanto Aidan organizza una festa per dare il bentornato a Serkan e per augurargli di riprendersi completamente dopo l'incidente aereo. In quell'occasione Eda decide di fare un nuovo passo per cercare di far tornare la memoria al suo amato. Infatti la sua intenzione è quella di baciarlo davanti a tutti. La Ildis fa proprio così e nel bel mezzo dei festeggiamenti bacia appassionatamente Serkan dicendogli che se la testa l'ha dimenticata sicuramente non può averlo fatto il cuore. Grazie.